Una sera appunto uno di loro mi si è avvicinato, mi ha preso in disparte e mi ha detto che aveva capito che c'erano dei problemi, mi fa guarda che se tu hai dei problemi per noi, dice io parlo per me, ma se tu hai dei problemi per noi io esco fuori subito. Allora io mi sono un po' commosso, l'ho mandato da un'altra volontaria per fargli spiegare che invece noi eravamo contenti che ci fosse e che non si preoccupasse. Perché lei non riusciva a parlargli? Io non riuscivo a parlare. Si emoziona ancora Don Giovanni Kirchner ricordando questo episodio, uno dei tanti vissuti durante i giorni d'accoglienza di alcuni senza tetto in chiesa accanto all'altare. Giorni contraddistinti da una gara di solidarietà tra chi ogni notte dormiva con gli ospiti, chi tutte le mattine portava la colazione e chi invece si presentava con cibo, indumenti o semplicemente per esprimere il proprio appoggio al parroco. Ma sono stati anche giorni di polemiche sfociati con la proposta di una petizione da parte di alcuni residenti per allontanare da Santa Maria del Sire Don Giovanni. Noi siamo anche disposti chiaramente a incontrare e a parlare con tutti. Purtroppo non abbiamo avuto questa possibilità con loro, quindi non sappiamo neanche bene dare una dimensione a questa protesta. Una vicenda chiusosi qualche giorno fa con il trasferimento degli ospiti che secondo Don Giovanni non ha incrinato i rapporti di collaborazione con Cassugana. C'era un accordo prima e questo accordo rimane e ci sarà da qua in avanti. Dopo, se vogliamo dire che possiamo fare meglio, certo, questo gesto non era contro qualcuno, ma era cercare una soluzione. Ma l'impegno del parroco di Santa Maria del Sire prosegue aiutando alcune di queste persone a ricostruirsi una vita. Se però poi chiediamo a Don Giovanni se sarebbe pronto a riaprire le porte della sua chiesa. In questo momento non saprei dirlo sinceramente. Il nostro impegno principale non è quello nell'ospitare fisicamente le persone, ma è quello di lavorare come comunità perché queste persone non abbiano più bisogno di essere ospitati da qualche parte. Però non lo esclude? Non lo escludo perché questa è la vita, insomma. Stiamo lavorando per incrementare ulteriormente la disponibilità di spazi, ma è importante continuare a dialogare con tutte le realtà coinvolte perché non si facciano scatti in avanti, evidenza il sindaco Conte. Un piccolo invito che faccio a Don Giovanni è quello di condividere con questa rete quelle che sono delle iniziative per evitare di creare malintesi, incomprensioni o tensioni della comunità. Grazie. Grazie.